Nonostante siamo passati un po' di anni, bisogna dire che ci siamo conservati molto meglio di avere, no? Beh, tu non direi proprio. Hai una faccia terrificante. E poi le corna? Che linee hanno fatto? Ah, purtroppo hanno dovuto segarmene per chiudermi in questo stupido armadietto insieme a te, mezza tigre viccioluta e purtolente. Senti, bombetta scarnificata, i tuoi astigli hanno l'odore della presaola a 40 gradi, sai? Beh, non sai quanto vorrei poter rinunciare alla tua compagnia. A proposito, giovanotti, chi di voi ospiterebbe nel suo armadietto questa notte?